Vediamo un altro esempio di analisi di un circuito in regime sinusoidale in cui siano coinvolte o siano di nostro interesse le potenze. Come fatto in precedenza, schematizziamo il circuito composto di due parti, dove il circuito di nostro interesse è quello di destra che sto contrassegnando con un asterisco. Le due parti del circuito generico siano unite tra di loro solo da due terminali, quindi in modo che il bipolo di destra sia un bipolo passivo. In questo caso i dati che abbiamo a disposizione sono la potenza attiva assorbita dal bipolo, sia la potenza attiva assorbita pari a 1 kW, e poi sappiamo che il fattore di potenza del bipolo passivo sia pari a 0,8. Ciò che vogliamo determinare è la potenza reattiva Q assorbita dal bipolo passivo. Vediamo come possiamo procedere in questo caso e se effettivamente siamo in grado di dare una risposta alla domanda che ci è stata posta. Allora intanto partiamo dalla definizione di potenza attiva in regime sinusoidale, la potenza attiva P. V per I coseno di phi, noi conosciamo il valore della potenza, conosciamo il valore del fattore di potenza, quindi da questa noi possiamo ricavare che il valore del prodotto dei valori efficaci della tensione della corrente, V per I come il rapporto fra la potenza P e il fattore di potenza cos phi, quindi sostituiamo i valori, la potenza è 1 kW, ricordo di non sbagliare e quindi nell'utilizzare le formule riportiamo tutte le grandezze all'unità di misura originale, quindi in watt, quindi un kilowatt sono mille watt, il cos phi è 0,8, quindi il risultato in questo caso è pari a 1250, che cosa? V per I sono volt ampere, che quindi pari anche al valore della potenza apparente assorbita dal bipolo, quindi questo valore che abbiamo qui calcolato non è altro che la potenza apparente. A questo punto per procedere, sapendo che la potenza reattiva Q la ottengo come V per I per il seno dell'angolo phi, mi serve conoscere appunto l'angolo phi, andiamo a vedere di calcolare l'angolo phi dalla conoscenza del fattore di potenza 0,8, per fare questo sembrerebbe che sia sufficiente utilizzare l'espressione trigonometrica inversa del coseno per determinare l'angolo phi, quindi diciamo che io l'angolo phi lo potrei determinare come l'arco coseno, l'arco il cui coseno è uguale al coseno di phi, quindi in questo caso sostituendo i valori avrei l'arco coseno di 0,8 e questo mi porta a un risultato di circa 36,9 gradi sessagesimali. C'è un problema in questo risultato però che il coseno di 36,9 gradi è pari appunto a 0,8 e il problema sorge dal fatto che anche il coseno di meno 36,9 gradi continua a essere uguale a 0,8 quindi noi dalla conoscenza del fattore di potenza del carico Q non siamo in grado di determinare se l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente è positivo o negativo, quindi non siamo in grado di determinare il fatto che il bipolo passivo sia di tipo omico-induttivo o omico-capacitivo, perlomeno non siamo in grado di capirlo da questi soli dati che ci sono stati forniti in questo caso, quindi quello che noi in questo esercizio possiamo fare è calcolare il valore assoluto di Q, sarà sicuramente uguale a V per il seno di Phi del valore assoluto del seno di Phi e quindi sarà uguale a 1250 per il seno di 36,9 gradi calcoliamo per il seno di 36,9 gradi che mi dà il valore assoluto del seno e questo mi dà come risultato 750 volt ampere reattivi, è un valore assoluto, quindi non sono in grado di stabilire il suo vero segno, cioè se è effettivamente positivo o negativo in caso di carico omico-capacitivo. Nei casi pratici di circuiti reali, molto spesso i carichi, o prevalentemente, i carichi sono di tipo omico-induttivo, quindi che assorbono potenze reattive positive, ma questa è un'ipotesi che possiamo fare, che se non è avvalorata da dei dati concreti di conoscenza della Costituzione, del bipolo passivo, quindi del carico reale che lui rappresenta, non siamo in grado di affermarlo con sicurezza assoluta.